e quindi cara ne ho approfittato per raccontare la polizia ho fatto un titolo anche unico misto insomma e inizia a esserci freddo qui nella città del primo tricolone no, un depistaggio ah no, sarà lo staff di comunicazione sogno di raccontare dottor Igor se ho sentito bene la sua traiettoria umana e professionale chi lo sa? E ora ci proviamo dottore senza dirlo a Federico Amico posso rubarle qualche minuto in video? io sono Vanni Zagnoli faccio il freelance niente, volevo almeno presentarmi, pazienza grazie comunque Federico Amico con Igor leggenda Federico Amico direttamente dal mafia dal mondo della sinistra a quella degli spettacoli a quello che sappiamo allora si chiudono le macchine potremmo fare una gag potremmo fare una gag amici all'ascolto in visione indifferita in questo caso ma andiamo decisamente all'uscita perché il freddo è assolutamente paralizzante assolutamente paralizzante allora Elena Etel Schlein e Michele De Pasquale con la questura, con la scorta e così un freddo notevole che ci fa paralizzare torniamo dentro magari un attimo l'Alfa Romeo Alfa Romeo Alfa Romeo e insomma c'è il business delle auto per la polizia Fiat difficile per noi riconoscere i modelli ma è così Giulietta nuovi modelli evidentemente di Giulietta e saliamo un po' andiamo a salutare la De Di Di Ferro la Margheretta un gran freddo qui al centro Loris Malaguzzi è stato un grande piacere un enorme onore ascoltare Michele De Pasquale abbiamo avuto il desiderio avevamo il desiderio di chiedere qualcosa mi chiedo appunto invece hanno già bloccato magari è aperta no allora torniamo in macchina dall'altra parte è il momento allora di lasciare e così e così eccola qua gli uomini della questura la polizia a fare riprese si scorta si scortano Michele De Pasquale o meglio no si scorta Schlein fino immaginiamo in albergo insomma c'è anche una signora là in mezzo magia lo sapete meraviglia la magia degli eventi la magia di tutto quanto è politica di tutto quanto è I care vinca il migliore è una corsa fatta posso raccontarla in video dottoressa mi scusi scusi sono un giornalista posso farle un video racconto vabbè ma era con la politica o è qua per caso no dicevo se era dentro no no ah mi scusi mi scusi anzi ok 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 Grazie a tutti.